1.5 minuti del mondo, diamo a mostro l'energia, aspetta l'innesso che entra in pista, lo sapete meglio di me, ora un giro, tranquillo per voi, non vattene anche sulla gira, ora, questa in questa prova libere qua non mancano 8 minuti al termine, un sacco d'arrivo, grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.